Cosa vuoi farmi per Ginestra? Bravo, tu chiami e io rispondo, io faccio finta di essere Ginestra. Pronto, sono Ginestra, chi è? Sono Luca. No, ho capito, allora prova a chiamarmi, fammi il telefono, fammi drink e io dico pronto. Pronto? Chi parla? Mi parla Don Bociccio, ma quello mi dice mai. Esatto, così, così, allora questo con Ginestra e qui sei a posto, siamo a cavallo. Allora diciamo, fammi drink e parliamo con Bitulla adesso. Pronto? Chi parla? Chi parla? Oh, Luca. E' costumibile la parte bellezza. No, non mi incasinare qui, Luca. Qui dovevi fare l'autobus, è con Bitulla. Ah, è vero. Ti ricordi? Fai l'apertura, eh, l'apertura dell'autobus. Allora torniamo a fare, torna a suonare, fammi il drink. Drink. Pronto? Chi parla? L'autobus. Ma come l'autobus? Devi fare l'apertura del potello. Luca, stai attento, se ci sbagliamo qui è un casino, eh. Drink. Pronto? Chi parla? Esatto. Preciso. Guarda che così deve venire. Così, ricordati, eh. Eventualmente fai anche l'apertura di quello destro. Com'era quello destro? Sto parlando di questo. È mia madre. Ah, ma... Di che è una telefonata importante questa, eh? Sì, sì. E poi... Aspetta, abbiamo l'ultimo adesso, eh. Quello di Salice. Ti ricordi? Pronto? È la barzelletta. Esatto. Allora fammi il drink e fammi te la ricordi bene, eh. Era da tre questa barzelletta, eh. Quella del caffè. Esatto. Da tre punti era questa qui, eh. Non è eccezionale come battuta, però da tre punti va già bene, come prima volta. Dopo ne spariamo una da dieci che va da dio. Sei pronto? Allora... No, aspetta. Prima devi far drink, eh. Fammi il drink. Un attimo, vi ripasso un po'. Ah, ripasso. Ripasso altavoce così, capisco. C'è uno che va in un bar, ha una tazza di cioccolato, ma ho piacere il cappuccino. Guarda che bella questa qui, eh. Ti piace? Se no ne abbiamo un'altra, eh. Se non ti piace. Non ti sentivo molto. È carina. È carina. Li chiamo adesso tutti i Salice, Betul, Ginestra. Ci sono? Per me sì. L'altro impresario... Anche Untano c'era, però Untano non lo sento più. Ho capito. Pino... 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 Non lo so... Pino... Sì, sì. È Abete che... Lui ha smesso proprio Abete, eh. È strano. È bravo. Ma Abete, Abete sì. Mi ha dato tanti impegni. Però sei inalberato, probabilmente. Non ha più... È un ramo che lui non... Non segue più questo qui. Questo ramo qui. Sì, sì. Fa altre cose, ma questo ramo qui non ce l'ha più. Ho capito. Io speravo che mettesse le radici, invece non... Eh, beh. Oh. Vabbè, dai. Ma sì. Andata così. Peccato, perché era bravo. Comunque vedrai che Betul, Salice e Ginestra. Va bene, dai. Va bene, ciao Luca. È stato un piacere. Dai, ogni tanto fatti sentire. Non troppo, però fatti sentire, dai. Va bene. Ciao. 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 Già. 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 Grazie.